Dall'unione di tante associazioni che operano sul territorio nasce Federautismo, un modo migliore per aiutare questi ragazzi. Sì, Federautismo nasce dalla volontà di tutti noi, quindi fondazioni che si occupano di autismo e associazioni che si sono già costituite e che potranno con noi costituirsi e entrare per dare risposte migliori alle persone con autismo. In particolare noi vogliamo proporci come punto di riferimento della ricerca, della possibilità di scambio, della possibilità di suggerire all'interno di quelle che sono le normative e le necessità delle persone con autismo e delle loro famiglie. Noi sappiamo che storicamente l'autismo ha avuto veramente da dover a un trascorso di battaglie importanti. Perché? Perché purtroppo ci sono stati tanti avventurieri, e ancora ci sono, che minano il nostro lavoro, cioè alle famiglie promettono guarigioni che oggi sappiamo non esserci. Quindi è importante invece dare risposte concrete, dare risposte quelle scientifiche, quelle che effettivamente si possono dare. Le altre non sono assolutamente risposte possibili. È importante metterci insieme, è importante condividere le esperienze, il know-how, sempre per il bene dei ragazzi, delle persone malate di autismo, che purtroppo è una malattia in aumento, ancora non si riusciamo a capire bene le cause, che però segna la vita non solo dei ragazzi ma anche di tante famiglie. Quindi metterci insieme significa anche uscire fuori da una logica semplicemente di richieste, ma anche vogliamo proporre qualcosa di nuovo, vorremmo proporre qualcosa che sia veramente di sostegno le famiglie. È importante decidere di unire e di mettere insieme più voci, perché probabilmente in passato c'è stato qualche problema da questo punto di vista. Sì, probabilmente sì, ma più che altro erano una serie di proposte che erano tutte diverse, invece oggi la proposta è unica e quindi è anche più semplice poi per chi la deve recepire e portarla avanti. Quindi questa unione è sicuramente un fatto molto molto positivo, un fatto anche storico.